E' stato inaugurato nel liceo artistico per il design grue di Castelli il monumento il sorriso dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti i servitori dello Stato che hanno perso la vita tragicamente per mano della mafia. Un'opera che è stata scolpita su pietra della maiella dagli alunni della scuola d'arte sotto la guida del maestro e scultore Valentino Giampaoli e che girerà l'Italia toccando tutti i posti dove si svolgeranno iniziative contro le mafie. La cerimonia rientra tra gli eventi del premio nazionale Paolo Borsellino. Una forte emozione perché ho avuto il privilegio di conoscere e di lavorare per un breve periodo con il dottor Falcone quando dall'ufficio istruzione era diventato procuratore aggiunto di Palermo e l'emozione di sapere che a distanza di 27 anni dei ragazzi nati molto tempo dopo la sua morte si sono dedicati a quest'opera per l'opera in sé ma anche per il valore simbolico dell'opera stessa. Se la mia paura è che l'Italia dimenticasse il fatto che è ricordata anche nel posto in uno dei posti diciamo lontani da Palermo è la dimostrazione che l'Italia non ha dimenticato e che oggi ama Giovanni e Paolo più di quanto non abbia fatto i suoi contemporanei. Giovanni sapeva che sarebbe morto perché nelle sue previsioni gliel'aveva detto lo stesso Buscetta che sarebbe finita come è finita e aveva detto a tutti noi con quelle sue parole che le sue idee erano fondamentali nella lotta alla mafia e che dovevano essere portati avanti anche dopo morto. Il messaggio è davvero positivo perché l'immagine dei giudici Falcone e Borsellino in collaborazione e amicizia presi colti in un momento in cui sono sorridenti diventa un messaggio veramente positivo perché dall'idea della fiducia che si ha nella capacità del proprio lavoro e anche nella capacità che attraverso la collaborazione si ha di incidere sulle vicende che ci interessano ogni giorno. Le idee restano e scolpito sulla pietra, su questa pietra della maiella. Credo che i ragazzi siano stati bravi a cogliere in estrema sintesi il messaggio che ci impegniamo a raccogliere. Grazie. Grazie.